Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video Oggi mi vedete in un ambiente un po' diverso dal solito e soprattutto mi vedete intuttato con questo paracostole Perché mi trovo in cartodromo Sono insieme ad un personaggio che probabilmente alcuni di voi conosceranno Sono qui con Davide, anche lui fa video su YouTube e va molto molto forte con i kart Molto più di quanto renda in video, ve lo posso assicurare Oggi siamo qua perché Davide qualche giorno fa mi ha mandato una mail e mi ha detto Ti piacerebbe fare un qualcosa con i kart? Ti ho detto bro ma anche settimana prossima se vuoi io vengo a scannare E se vedete la telecamera che trema un pochettino è perché io sto tremando Perché sono entrato ormai un 40 minuti fa a fare il primo turno C'è veramente sti kart che adesso vi faccio vedere sono delle bestie totali Allora questi sono dei B-Rail Art motorizzati TM Racing Come si vede dal logo sul cilindro si riconoscono come i nostri motard Anche se il motore vi posso garantire che è una figata e davvero è tutt'altra storia Cambio sei marce abbiamo la leva non come i kart a noleggio quattro tempi Si aziona semplicemente sequenziale come le moto quindi si mette marcia tirando e si toglie in avanti Cambio marcia semplicemente si alza il gas si cambia marcia Per avere un termine di paragone ragazzi quando sali magari su un motard stradale non troppo tirato E poi sali su un TM ti senti praticamente volare nell'iperuraneo Questo qua vi assicuro che rende la velocità di un TM e l'aggressività di un TM pari a quella di una panda Ovviamente non hanno il minimo di elettronica per cui non c'è reaction control non c'è ABS e questo l'ho già sperimentato Quindi è molto ferro e uomo bisogna stare attenti ed essere molto sensibili Il mio TM ha 36 cavalli quanti cavalli ha un mezzo di questo tipo? Non l'ho mai bancato onestamente ma dovremmo essere attorno ai 50 Ok per farvi capire quindi il primo turno come vi dicevo l'ho fatto Era veramente solamente un turno per capire un attimo come funzionasse questo kart Cercherò di farvi un commentino come tutte le volte che vengo in pista vediamo E signori vi faccio notare una piccola cosa sentite bene cosa vi ho detto prima Non c'è ABS e questo l'ho già sperimentato Non c'è ABS e questo l'ho già sperimentato Eh già è successo qualcosa in primo turno Semplicemente essendo il primo turno non riuscivo a capire quanto questi kart riuscissero a frenare C'era gente che staccava prestissimo c'era gente che staccava veramente all'ultimo Quindi mi sono detto l'unico modo per scoprirlo è tirare un bel pestone sul freno e vedere quello che succede Ho cercato di tamponare stile ABS ma ovviamente non ci sono riuscito Soprattutto appena ho toccato l'erba sono praticamente finito Del giardino di casa mia che si trova a qualche ora da lì Ma se avessi fatto piccoli danni sarebbe stato un problema oppure no? Ovviamente no perché abbiamo Autodocche che ci supporta Per chi ancora non lo conoscesse infatti Autodocche è lo store number one in Europa per prodotti per auto E visto che in questo caso con i kart parliamo di prodotti ultra specifici Se avessi rotto un disco del freno non sarebbe stato un problema Se avessi dovuto per qualche motivo bruciare delle candele altrettanto nessun problema Idem per l'impianto di raffreddamento che non solo sono compatibili con praticamente un sacco di auto E per scoprire se i prodotti sono compatibili con la vostra auto vi consiglio di aggiungerla nel tab in alto dell'applicazione Ma sono praticamente sempre anche in sconto come vedete Ordinando prodotti dall'applicazione di Autodocche tra l'altro vi costerà tutto anche un pelo di meno rispetto che ordinandoli online E soprattutto utilizzando il codice sconto Edo oppure il link che trovate qui sotto nella descrizione Avrete uno sconto aggiuntivo Praticamente arrivate a un punto in cui è Autodocche che vi regala i prodotti o che vi paga per montarli Nel caso dei kart per rimanere in tema per esempio Autodocche vende questo olio che si utilizza per il motore dei due tempi Quindi se volete sconti esclusivi, ricambi a prezzi bassissimi e soprattutto una valanga di accessori compatibili con la vostra auto Io vi consiglio di affidarvi come faccio io ad Autodocche Detto questo di premesse ne abbiamo fatte abbastanza È il momento di scendere in pista Quindi a tutti gli effetti per me questo qui è il secondo turno E visto che la pista è leggermente più libera rispetto al solito Sfrutto l'occasione per imparare a tutti gli effetti la pista Visto che era la prima volta che ci andavo e non la conoscevo E mi faccio dare anche qualche dritta da Davide Allora in questo momento sto aspettando Davide Che arrivi dietro di me Per dirmi gli errori che faccio E poi mi sta davanti lui Che almeno segue le sue di traiettorie insomma Usare un mezzo del genere raga è veramente tosso E parlare soprattutto mentre lo usi è assolutamente impossibile ve lo assicuro Madonna raga con la bella doca Raga per farvi capire quanto sono delle bestie Questi kart guardate meglio questa clip Se ci fate caso parte così prepotentemente Che nonostante io sia già pronto ovviamente Perché mi aspetto che il kart stia per aprire Faccio quasi fatica a prendere in mano la leva del cambio in modo corretto Perché mi sbalza così forte che praticamente la mia mano se ne va altrove Spero almeno un minimo che da questo video voi capiate quanto sono delle bestie questi kart Che poi hanno un problema di base Guardate questa clip del primissimo turno che ho fatto Ero sotto coppia e quindi andavo pianissimo Ora guardate quest'altra di clip Ero a giri giusti quindi andavo fortissimo Conclusione o vai lentissimo o vai a cannone Su questi kart non esiste un livello intermedio O vai piano o vai forte E noi ovviamente abbiamo scelto di andar forte Non ho più i liquidi nemmeno per la saliva Devo uscire No basta Mamma sono veramente morto Qui ringrazio molto Davide che mi ha dato diversi consigli Su come sfruttare al meglio la pista E su che marcia utilizzare in quali punti Prima di farci una fantastica pausa pranzo Pausetta pranzo fatta Adesso si va con il terzo turno In questo momento non sento nessuno girare tra l'altro Per cui la pista penso che sia prevalentemente vuota Ecco come non detto Adesso iniziano a girare Ok Come il turno di prima scaldo il kart Scaldo le gomme Scaldo i freni E soprattutto mi faccio salire l'adrenalina Raga Giuro che nelle prime curve sei lì tutto indolenzito Tutto stanco Poi fai il primo rettilineo a praticamente 130 all'ora E ti arriva in automatico una botta di adrenalina Che poi in tutti i giri dopo vai tranquillo E ti arriva in automatico una botta di adrenalina Da un tornante e l'altro Dovresti sacrificare di più l'uscita di un tornante Per entrare meglio Ok Mi sembra di girare molto meglio però Ah 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 Grazie 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 Basta davvero sono tanto stanco Giri già bene Hai una buona idea Sì hai già la base giusta Turno fatto Come avete sentito penso Mi sono fermato un attimo a metà per bere Perché mi disidrato nel giro di mezzo secondo E soprattutto avevo un male alla mano incredibile Ho tirato giù ancora un po' rispetto a prima Adesso ci riposiamo E poi magari facciamo un ultimo turno abbastanza tranquilli E proprio quando era il momento del turno tranquillo Non so come Non so con che forze Ma ho fatto il mio best lap E visto che con questo video ci stiamo dilungando fin troppo Vi metto direttamente il mio best lap Che visto a mente fredda È molto meno pulito di quanto mi sembrasse mentre guidavo Quindi se dovesse esserci una seconda volta Sono sicuro che potrei fare di meglio Non so come Non so come A presto Mi fermo Sono a pezzi Ragazzi 5 turn 4 turn 4 5 Aspetta Io sono veramente a pezzi Sono riuscito come avete visto Perché basta Cioè Sono arrivato al limite Della mia giornata C'è da dire anche La temperatura esterna Oggi è tornato il caldo È un bene Ma si soffre qua in pista Poi in tuta Alla fine dei conti Il kart è ancora qua ragazzi I braccietti sono lì Le gomme sono lì Io sono qui Per cui Direi che È andato Tutto la protezione No vabbè scherzi a parte ragazzi Devo ringraziare La famiglia Il team Perché è un'esperienza Che dicevo ora Con Davide Non si può fare Andando ad un noleggio Con dei kart di questo calibro E devo ringraziarli tantissimo Perché mi è valsa Veramente la pena E mi piacerebbe tornarci Ve lo dico Ve lo dico sinceramente Prima o poi Quindi Noi speriamo che questo video Sia stato di vostro gradimento Cosa si fa Quando un video È di loro gradimento Bisogna iscriversi Attivare la campanella Delle notifiche E magari lasciare un mi piace Perfetto Ho studiato Si vede Si vede che fai video Bravissimo Scherzi a parte ragazzi Ricordatevi di iscrivervi al mio canale Ed attivare la campanella Delle notifiche Per non perdervi tutti i miei video Che escono ogni martedì E ogni sabato Sempre alle ore 14 Ragazzi ci vediamo in un prossimo video Nella descrizione trovate Il canale di Davide E Adios Adios Yeah Ciao!